Vincere il Gran Premio Città d'Arezzo Encher E' stato il coro svedese a vincere il Gran Premio Città d'Arezzo del settantesimo concorso polifonico internazionale Guido d'Arezzo riconoscimento che vale la partecipazione al Gran Premio Europeo di Canto Corale ad ospitare la serata conclusiva di questa edizione la Chiesa di San Domenico Abbiamo cercato la Chiesa che potesse ospitare tutto ma è sempre bello vedere che ci sono ancora persone che cercano posto abbiamo messo fuori dalla Chiesa anche un diffusore per poter seguire anche all'aperto la proclamazione dei risultati dei vincitori Il coro svedese si è dunque classificato al primo posto delle categorie musica sacra e musica profana mentre nel programma rinascimentale ha primeggiato il coro ucraino premio speciale inoltre per la miglior esecuzione di un brano di Schutz all'Accademia Almavox di Roma Si chiude dunque con un grande successo questa settantesima edizione del concorso polifonico che ha visto un tripudio di partecipazione artistica, pubblico e seguito mediato Si è svolto con grande successo nella nostra città con un numero straordinario di cori provenienti da sette paesi diversi un risultato ottimo dal punto di vista qualitativo sappiamo tutti che il polifonico è una manifestazione oltre che molto diffusa nel mondo ma anche ritenuta tra le più qualificanti e più difficili per cui tutti contenti, vincitori e vinti, chi ha vinto al solito è sempre la musica Grazie a tutti!